Siamo sul pullman in ritorno a Santander perché domani abbiamo l'avion per l'italiano Speriamo che non ci rompano anche i coglioni col tampon Santander Siamo di nuovo a Santander e stiamo cercando l'albergo di ritorno per oggi e poi domani torniamo a casa Ma ci abbiamo due giorni praticamente perché ci abbiamo anche domani fino alle 10 di sera Quindi spettacolo Andiamo E nel mentre io me la svapo qua che sto aspettando fino a la prima bottiglia dell'acqua Siamo arrivati in ritorno in albergo, mancano un po' più di 300 metri E niente, finiamo la giornata e vabbè Questa vacanza è tutta proprio L'unica cosa è che non sapevamo la faccenda di questo cazzo di cose Quando siamo partiti non c'era nessun tipo di allerto, se no non partivamo neanche Ci siamo lasciati andare tranquilli Poi ieri c'è arrivata il mail della Ryanair che diceva che doveva fare il tampone privatoriamente E ora vi faccio il tour dell'ultima camera che dormiamo, eccola qua Questa qua è una camera da innamorati Pieno, onnipresente Il bagnetto direi molto, molto decoroso, molto piccolo ma molto decoroso Qua c'è la stanzetta da innamorati Black and white Black and white giusto Blanco e negro E qua, voglio dire, vi faccio vedere sul centro di Sant'Andrea Cazzo vuoi di più E ora ci andiamo a mangiare qualcosa prima che muoio di fame Cazzo ma pensi solo a mangiare? Qua il running è pronto perché oggi è l'ultimo giorno che lo uso Perché da domani si mette via e macchina fotografica va Vamos! Siamo usciti e abbiamo trovato questo locale nuovo da mangiare Questa volta scorsa la rompe fin là Adesso siamo qua C'è Pino che è in preghiera Perché prima di mangiare si prega giustamente Guardatelo com'è in preghiera Se voglio la panna da qualcuno che prega Come stavo dicendo Super Pino mi stavo dimenticando di dirvi Stiamo mangiando un super polpo alla gallina Galliega Che ragazzi è fatto È polpo con le patate in poche parole Groscia lipatica, fumicata E poi E poi non lo sappiamo comunque è una cosa non buona Di più E vi dirò di più Siamo al 14 di agosto E ci vuole la perfetta di Spagna Nell'impensata poi Al mare Perché qua il mare è là Vabbè non si vede Perché ci sono i moretti Ma il mare è lì Un po' voi Ho un freddo porco Siamo in Trentino No? In Spagna Stiamo aspettando il caffè Perché c'è un freddo porco in Spagna Ragazzi incredibile No Tutto bene Per il momento tutto bene Veramente questo polpo alla gallina In questo locale era veramente splendido Polpo con patate Cotto forse in una maniera particolare Poi c'è la paprika dolce Però affumicata La particolarità è che è affumicata Quindi gli da quel tocco Poi ci siamo mangiati penso un chilo di pane Due goti Come si dice a Genova Due goti di vino Dos vasos de tinto Dos copa Perché copa è vino copa E ora arrivano i caffè Eccolo qua Arrivano proprio i caffè Eccolo qua Eccolo cheinski Grazie a tutti. 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 Vediamo quello che esce oggi. Come ultimo pranzo ci consigliamo in questo locale che è molto particolare. E' entrato in modalità muto. Grazie a tutti. E' il nostro pollo di quest'anno. E' il pollo di pezzi. E' il pollo di pezzi. Il pollo di pezzi. E' 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 il pollo di pezzi.